Buongiorno a tutti e benvenuti di Biura al Paese per un'emissio speciale oggi, vi prepariamo di tornare a passare una giornata al Collegio. Abbiamo parlato dell'insegnamento della città, abbiamo parlato anche delle scuole, e tutto quello che facciamo al Collegio Eliceo Leum Cordos a Montpellier. Leum Cordos è il tuo primo Collegio Calandretto che si è dubbligato, del Pioio 2017 è completato per un liceo. Di la nostra emissio, a Nirentabè abbessi essere scontrati due regentati e incarichi delle classi bilingue uscitanze dentro di una scuola pubblica. Ma che le ultime anni del quotidiano dei stagliamenti fuggendo mai che mai la gestione dell'epidemia del Covid, trena ora da un mattino direttore è in contatto a mello Rettura. Grazie a tutti!